Professor Gino Gerosa, l'Europa sta finanziando Padova, finanzierà Padova con 750 mila euro per un progetto molto importante. Cosa riguarda? È un progetto che ha come fine ultimo quello di sviluppare sostituti valvolari cardiaci in cui la biocompatibilità è ottimizzata. È un consorzio di ricerca europeo che vede Padova coinvolta a pieno titolo. Quale impatto avrà sui pazienti? Si dovranno produrre valvole che sono più friendly, più amiche dei pazienti e quindi garantendo una miglior qualità di vita e una maggior durata nel tempo. Il progetto vuole sviluppare dei sostituti valvolari cardiaci che siano dotati di un patrimonio cellulare proprio del paziente al quale viene impiantato, quindi il massimo della biocompatibilità. Utilizzando le tecniche di ingegneria tessutale riusciamo a creare dei sostituti valvolari cardiaci con una miglior biocompatibilità e qualora si utilizzi del materiale non omologo, cioè non di pertinenza umana, si evita il progetto. Quante persone sono affette da problemi cardiaci? Da problemi cardiaci più specificatamente valvolari, come messo dalla conferenza stampa, se parliamo a livello mondiale parliamo di milioni di pazienti. E poi anche moltissimi giovani potranno avere delle opportunità di lavoro con questo progetto? Questo è un punto molto importante e qualificante del Consorzio di ricerca Tecas perché gran parte dei finanziamenti servono appunto per sostenere giovani ricercatori all'interno del Consorzio stesso per posizioni di dottorato di ricerca e quindi per il training di questi ricercatori che poi potranno spendersi successivamente in ambito lavorativo e industriale.